Oh! 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 Guarda che faccia! Guarda che faccia! Non se l'aspettava! Veramente spaventoso! Ti devi spaventare! Ti devi spaventare! Nonè non! Vi spaventare! Vi spaventare! Vi spaventare nanti! Vi spaventare! Ré stopni! Ciao a tutti ragazzi, bentornati nel mio canale, io sono Shia Nagatou e oggi andremo a continuare la serie del videogioco Horror The Devil Me, vedremo cosa succederà in questo episodio. Ma bando le ciance, si va a cominciare, bye! Ok, noi eravamo qui e continuiamo a vedere che cavolo succede, però io voglio la torcia. Eh sì. Leva, levadi! Oh, levadi. Siamo proprio sicuri. Non vedo molte altre opzioni. Anco io purtroppo. Oddio, allora. È un c***o buio però, eh. Non vedo niente! Che c***o ma cosa adesso? Dove siamo finiti? Non lo so, ho paura. Andiamo avanti. Dove è andato qua all'altro? Andato via. Aspetta, mica c***o! A volte la X è la A, a volte la A è la X. Che c'è? Di brutto qua dentro. Già dalla musichetta. Di qua vengo. andiamo a vedere. Andiamo avanti. Andiamo avanti. Andiamo avanti. Sì, cerca di ancora. Non parla in inglese. che è questo coso, non so, perché... quanti può fare, quanti può la passare dove andiamo, aspetta vuoi già a correre, non mi ricordo più vabbè ma dove passiamo? qua non... non dove passare e non va di qua immagino no dove possiamo passare, scusate almeno mi sarà bloccata già lì il gioco va di qua vai il gioco è qua, no? eh? capito? ma è morto! ma è morto guarda questo? questo prendi ti è ma chi è? mi fai leggere? manca un secondo vabbè uno che è morto sarà uno che lavorava qua vabbè non si chiama questo? Jeff Claire vabbè vabbè aspetta aspetta ci ricominciamo è gioco che ho fatto malissimo ma non male malissimo proprio vabbè un bel niente niente ok un uomo morto ok in novità di che? un attimo aspetta no di quanto di no voi voglio saltare? mi va mi si blocca qua vabbè non vabbè vabbè in novità vabbè 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 non non vabbè vabbè Qua cosa è? Che è? Che è? Che è? Che è questo? Che è? Che è? Ma devo scherzi? Già qua, va bene, è abbastanza inquietante sta zona! Non so, non posso entrare qua dentro non c'è niente è lo che ho preso in una faccia un po' si entra esagno, sono esagno qua non c'è niente ok, che cosa l'ho e qui c'ho perché sta ma io voglio sapere che c'era scritto che c'è scritto? ti capisci un cazzo se mi fai un leggerito in inglese che cazzo ne so e ora non faccio andare avanti guarda che cazzo che dobbiamo fare che dobbiamo fare? io non lo so non lo so è gritta ah, c'è le scale facciamo ma ti devi dare dalle pa**e ma perché? ma guarda, non continuare più stai bloccata stai bloccata ma ti pagano da soli queste persone io non lo so siamo qui tre ore ma porco ho finito di bloccarti ah, meno male ma perché? non lo so forse di qua saltiamo qua ah, ma vedi? non lo sapevo i rumori non mi piacciono non mi piacciono si rumori ok c'è chi è mancata? sono i topi? eh, sono le scale qua aiuto aiuto ah, ma vabbè ah, ma vabbè che c'è qua? che c'è qualcosa? qui c'è una porta qui c'è una porta quindi c'è qua di aprire e l'altra non lo so capire il mio per l'altra non so vabbè lei è tappa scontato come l'hanno detto? apriamo ah no no ok, camina camina un pacello Kate quale c'è successo? ti raggiungiamo aspetta lì fate il pecca oh no no che botta la muore per terra è da che? cosa? questo? non c'era le copioni io? si parla non sono le voce ma che c***o bene andiamo andiamo bene andiamo devo fare l'altra parte ma che mi sapeva c'è un deporte io non so come volevo manca che devi fa aiuto è buio un po' non so che l'horror c'è il buio ma è troppo un po' più di luce di fuoco nulla eh cioè non c'è c***o c***o niente dietro hai visto l'altro lato ok vabbè vabbè ok ok sono c***o qua dentro un po' peggio peggio di là che stai facendo stai cacando stai cacando rara della paura lo capisco però è un po' di contegno cioè mi sto camminando sotto c***o ma guarda che che e non è quell'altra lì che è stata rapita non vi chiamo non vi ricordo mai quella che è stata rapita da quel bastardo che si chiamava quella non mi ricordo è quella sicuramente forse prima di fuoco devo andare fuoco ho un po' di luce oh che bello ma il beggio le sono state accolse era malichina vabbè vabbè è stato un corpo raga veramente ok andiamo via andiamo via bene fantastico che è che sta qua cos'è che è sta merda oh no non lo sapevo che ci è bene paura panico 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 paura resta vicina ovviamente ma sei scemo se non si ma pure tu ti allontani o bè che c***o ma io non lo so guarda che faccia guarda che faccia non se l'aspettava veramente spaventoso ti devi spaventare ti devi spaventare che c***o è successo non lo so mi sono toccato in mano porca ma che c***o ma se ma se delle sce no questo gioco è fatto da malati questo gioco madonna che c***o era mi fa un po' rigo sta cosa che c***o è in mano una cosa rossa ma che è che c***o che è un bravo ti giuro quella lì era Tamara era Tamara porca p***a così c***o era Tamara che sta tipo così so attrezzando ma vado ma dov'è stai zitta mi parla l'improvviso già è tesa la reazione qui ci parli pure tu l'improvviso poi l'inglese che sconcazio c***o oddio mia santo lo stanno andando a finire salta giù si moriamoci prima dai puoi saltare giù? hai forza? aiuto che schifo ma il tempo è buio mi sono a stare f***o molto bello madonna madonna che c***o è dove andiamo con questa spazzatura che c***o ma che schifo è non facciamo scherzi ok questo amore sto baciando scherzi dove andiamo a finire? che è un bagno di antifisicità? dove c'è? un bagno ho ridotto malissimo mamma mia perché non lo bagno poi a me ma potrò fare? dai dove vado se no non posso posso keep walking around è zitto è zitto zitto aspetta 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 ah la moneta questa c***o moneta che serve non mi saprei io ma di nomi non ho monete no 30 30 30 non so che lo stasso dove stiamo andando? che non vedo niente è una torcia di me non c'è un c***o torcia non c'è niente non c'è niente io non posso passare che ne so vedo niente dove sto andando? non sei d'aiuto tu madonna perché non devo un coltello o qualcosa a me ne ho fatto a mattare qualcuno non c'è sticca non c'è niente ci vuoi che dici che è? madonna posso saltare qua? no eh questo lo piace qualcosa questo lo piace ma per gente cammina di là così c'è niente la mia oh bravo eh è mo no è un po' ma se ti scuace ci vuol fare ah salta vai salta adesso E la frittata Aspetta, aspetta, aspetta Un momento, un momento Un momento, un momento Un momento, un momento Un momento Un momento E là devo andare Molto bella Come faccio? Puoi saltare? Impossibile Questa, devo saltare di qua Oh no Ce la farò? A fare l'equilibrio Aspetta Va a mettere bene sta cosa Uh Cura Adesso Eh Aiuto Aspetta Di qua Ok di qua Svantare Mamma Mamma Ok ora posso usare di qua Vai Bravissima Vai Bene Ci siamo raga eh Ci siamo E noi invece ho fatto sta cosa Però ci siamo Oltre passa Aspetta Oltre passa Vai 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 Ti da ammazzare tu Vai 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 Grave E Ti fa paura Mark Forza dammi una mano qui Non viene a Mark Se non viene a ver C'è qualcosa che non va No 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 Ancora No 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 Adesso Ti lasciamo Non vale proprio Essere qua Che è Che è Che c'è Ah Scusate Non l'avevo visto Quando è buio Non ti vede Dai Scusate Che c'è Che c'è Che c'è Che c'è Che c'è L'hotel che è da pezzi Rongo Dai Finito Eh Qua È striscia Però striscia Ai ai Sono dei serpenti Aiuto Cos'è sta cosa Non mi dicevi niente Io mi guardo intorno Sicurezza Però non c'è niente Bene No 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 Ti prego Ti ciego Ma che cosa Che vuol dire È forse una specie di messaggio Vuole spaventarci Dirci qualcosa Ah Io non voglio aprire questa cosa che non mi dice Non so s'altro qui da segnare Poteva niente E' da posto qua Non lo so Però quando ho fatto questo Però quando ho fatto questo Merda Ho fatto una chiave E' da posto qua Io ho povero andare là però devo andare Non ci voglio andare Non ci voglio andare bene perché lo sa per questo forse per me da per questo ma è quella chiave andiamo bene c'è la torta destitiva? anche c'è la delo, ok aiuta questo è il cello sta mamma non c'è normale è vero chi è? è una persona, l'ho visto vabbè, andiamo la mano giù qua mentre non resta avanti non dico, è vero è un'altra cosa adesso oh no Mark, qui spostiamo il tavolo Mark Jamie qui stiamo bene stiamo bene grazie a Dio c'è una chiave andiamocene non amare dove l'ho indossata eh, non amare guardi, io potrei guarda i ferroi robbi stavano a dare sotto le scale guarda guarda cosa c'è? di qua non posso tendenzione la strana eh, sì ancora bene meno male che è successo? erin, musica erin è sicavale ehi cosa vuoi fare di erin? cosa? no 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 a questo momento in poi io ho rifatto la scena senza webcam per vedere un attimino se riuscivo a non far morire nessuno perché siccome ho visto altri gameplay che hanno fatto scelte diverse dalle mie quindi il finale è stato meglio e comunque non è morto nessuno non è morta questa persona qui e quindi ho dovuto fare questa scena e l'ho aggiunta qui e farò sempre così ogni volta che giocherò a questo videogioco cercherò di fare le scene fatte bene senza far morire nessuno ogni volta che ci giocherò quindi ora vi auguro una buona visione ma qua ci voglio riuscire a salvare tutte e due dai insomma devo fare oh merda no tiratemi subito fuori da qui Kate Kate beh sono chiuse dentro merda cosa devo riuscirci devo riuscirci questi pulsanti c'è paura sempre dai dai veloce 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 io non riesco a respirare queste finestre sono saldate il bastardo vuole costringerci ad assistere ehi guarda c'è un regolatore le fa respirare no non entrambe sta risucchiando tutto l'ossigeno muovendo la leva decideremo chi deve morire che fa qualcosa vuole che scegliamo vero oh mio dio io non se non interveniamo moriranno entrambe Mark Jamie ti prego un attimo non voglio morire ma fa io non voglio morire per favore aiuto ma ti salgo stai porca droga dobbiamo scegliere ora aiuto oh oh sono riuscita no dovevamo scegliere o morivano entrambe grazie 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 l'idea salvata e farviare anche Kate vedrete no no la scelta è quella è meglio no Kate finestra dai dai non so come ho fatto cliccare Kate Kate ma sono riuscita fortunatamente fortunatamente guarda che muore ragazza tranquillo si pensa Mark devo pensare pure io guarda grande Mark grande forza ti aiuto io ok sto bene uh meno male Kate tutto ok eccola mi immaginavo sta bene e siamo in quattro almeno per ora cioè qui devo far rapire lui speriamo non lo so è complicato cosa sta succedendo Dometh sta giocando ma faccio il serio cazzo stai bene no proprio per niente allora dobbiamo usare bene la testa prima che qualcun altro muoia come Charlie è facile Charlie è morto ha avuto ciò che si meritava eh madonna in tattiveria quando ero solo ho sentito una registrazione Charlie parlava con Dometh ha detto di averci portati qui perché ci voleva morire ah è vero non è possibile l'ho sentito chiaramente ci serve un piano fa un culo i giochetti e le altre stronzate pensate a tutti gli altri assassini ognuno aveva un punto debole vorresti invitarlo per un tè e psicanalizzarlo dico solo di usare la testa fate le vostre ipotesi ma se moriamo qui sarà inutile non voglio giocare voglio sopravvivere per sopravvivere devi giocare al detective non possiamo vincere al suo gioco serve usare l'astuzia vuole eliminarci uno alla volta dobbiamo restare uniti eh sì eh certo dove andiamo? torniamo al traghetto è partito ricordi? segue un cavo forse si recupera i forse non bastano andiamo al faro potremmo inviare un SOS la polizia pattuglia il lago con le barche giusto? fino a qui dici? i fari sono visibili per chilometri sarà di certo disseminato di trappole vorrà dire che staremo più che attenti è l'opzione migliore tu stai filmando senza prove nessuno ci crederà vuoi che lo riprenda mentre cerca di ammazzarci? e i cadaveri per la polizia bastardo sentito i muri si spostano di nuovo eh sì Kate aspetta restiamo vicini eh era meglio era meglio un attimo eh che c***o eh no no provando che c***o no 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 ecco ma c***o ma c***o non mi sono riuscita non mi sono riuscita lì no vabbè allora ragazzi so che il video dovrà di meno non mi importa perché adesso staccherò qui prima che lui viene rapito perché devo vedere come bene come funziona lo rifaccio lo rifaccio finché non riesco a farlo bene perché io voglio farle bene queste cose quindi eh da oggi in poi vedrò sempre di fare le prove prima di di giocare così a m***o dato che comunque questo gioco qua è complicato quindi raga io mi fermo qui eh la prossima volta a fare il continuo fatto bene ovviamente che saprò un po' meglio i comandi che lo rifarò però poi mi andrà bene eh sempre registrando così quando mi andrà bene lo metterò su youtube vediamo il finale migliore di questo bellissimo videogioco ok raga allora ci vediamo alla prossima ciao ragazzi un bacio bene il video finisce qui e se il video vi è piaciuto mettete mi piace commentatemi sotto nei commenti cosa ne pensate e condividete e qui sotto in descrizione metto tutti i miei social tutti i link in descrizione qui sotto sia di facebook sia della immagina facebook sia di instagram ma prima di chiudere il video vedete i miei errori ciao ragazzi alla prossima un bacio eeeh aiuto aspetta vabbè bene questo video finisce qui via via Grazie per la visione